Buongiorno, parliamo ancora del bando sud del concorso Coesione. Un ringraziamento a tutti quanti in questi giorni hanno voluto interagire con noi attraverso la pagina ufficiale Facebook di Forno S.P.A. dedicata a questo concorso. Interazioni che ci hanno aiutato a meglio focalizzare i termini del bando. Ed una raccomandazione, anche se avete già fatto la domanda, andate a leggere le frequent ask questions, che sono un documento in continuo divenire ed eventualmente ricordatevi che fino alla chiusura dei termini è possibile modificare la vostra domanda. Sarebbe veramente un peccato se a causa di una informazione inserita in modo non corretto l'esito della vostra domanda potesse essere pregiudicato. Grazie e buona giornata. Grazie Grazie Grazie